Polemica del pubblico del Grande Fratello verso la decisione che sarebbe stata presa nei confronti di Sergio e Greta. I due geffini sono ormai una coppia a tutti gli effetti, ma la regia avrebbe fatto una scelta nelle ultime ore che ha fatto imbestialire molta gente. Dalla produzione nessuna giustificazione o precisazione, ma è nata una sorta di protesta online. Diversi telespettatori si sono fiondati sul social network Decimo per denunciare i fatti avvenuti al Grande Fratello in relazione a Sergio e Greta. Loro due non sanno ancora niente dell'accaduto, infatti soltanto coloro che seguono la diretta H24 su Mediaset Extra si sono resi conto di questa situazione, che certamente non può far piacere ai fan dei due geffini. Nel pomeriggio del 18 marzo è scoppiato il caos fuori dal Grande Fratello perché i telespettatori si sono accorti di una presunta scorrettezza verso Sergio e Greta per aiutare maggiormente un'altra concorrente. Quindi, hanno accusato gli autori di aver messo in piedi una strategia ben precisa per provare ad influenzare il pubblico in vista dei risultati finali del televoto. Sergio e Greta sarebbero stati molto ignorati dalla regia del GF, che invece avrebbe indugiato di più su Anita e anche Alessio. Questa una protesta social su X, la censura dei sergetti e Anita da due ore fissa su regia uno significa che sta ancora ultima al televoto e vogliono farla recuperare. Votate e sbattiamola fuori. Ma non è l'unico commento simile. E tanti altri hanno scritto basta censura sempre in riferimento ai sergetti, che sarebbero stati troppo oscurati nelle ultime ore. Vedremo cosa accadrà davvero durante il televoto del 18 marzo. Oltre tutto questo, a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello. Stasera due eliminazioni e il terzo finalista che andrà a fare compagnia a Beatrice Luzzi e Rosy Chin. I geffini che rischiano di abbandonare la casa più spiata d'Italia sono Anita Olivieri e Greta Rossetti. La prima ha da una parte la foltaschiera dei fan di Beatrice Luzzi, mentre la seconda potrebbe pagare le confidenze fatte durante l'ultimo appuntamento su Vittorio Menozzi. La terza finalista del Grande Fratello sarà quasi certamente Simona Tagli. I sondaggi presenti sul forum del Grande Fratello rivelano che il concorrente più votato dal pubblico è proprio l'ex showgirl e ormai grande amica di Beatrice Luzzi. Intanto nuove polemiche scoppiano su Falsone che, secondo una parte del pubblico, starebbe facendo di tutto per farsi eliminare. L'obiettivo di Falsone è quello di farsi squalificare in un'edizione dove è praticamente impossibile farsi squalificare, si legge su X. E i commenti fioccano. Il branco, il gruppetto di bulli della minchia che fuori pensano che queste cagate siano normali e lecite. Il macellaro che gira col ascia e la fidanzata del picchiatore che lo comprende, aiuta. Di certo Alessio non sta vivendo bene queste ore, né è un esempio il caso Federico Massaro. Con lui non ha mai avuto un bel rapporto. A scatenare le ire di Alessio è bastato uno spazzolino staccato dalla spina. Staccato per l'ennesima volta e, a suo dire, proprio da Federico. Non ci ha visto più. Ha sbottato contro il coinquilino gettando per aria lo spazzolino, fino a spezzarlo in due. Ma nel momento in cui è andata in onda questa scena dove, a detta di molti telespettatori i due erano arrivati quasi alle mani, la regia del Grande Fratello ha subito cambiato in quadratura. L'edizione in corso del Grande Fratello è stata la meno vista nella storia del reality show e secondo la maggior parte del pubblico si è salvata solo per la partecipazione di Beatrice Luzzi, ex volto della Fiction Vivere che nel corso del programma ha raggiunto 111 nomination e 19 televoti, l'ultimo valido per la finale vinto con la percentuale bulgara del 60%.